bella raga oggi allenamento mattutino con questo video voglio farvi vedere qualcosa del nostro allenamento in particolare oggi alleno planche one arm front lever back lever poi faccio un po di tricipiti e gambe con pistol e squat con peso e infine ovviamente addome vi lascio comunque in descrizione il link con la scheda completa del mio allenamento se volete dare un occhio se volete prendere spunto se avete dei consigli avete qualcosa da correggere fatemelo sapere ho appena fatto colazione adesso sono pronto per allenarmi guardate il video mettete mi piace e condividetelo ciao a melody where i belong in this life a 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